Il giuliano. Puoi anche fare giuliano. Guarda come si fa? Fare giuliano. Molto carino. Puoi anche fare gattare patata. Guarda come si fa? Puoi anche fare tagliere di minestrone. Fare tutto tagliere di minestrone. Guarda come si fa? Tutto tagliere di minestrone. Questo così qua, guarda come si fa? Uno fare, fare grattugiare. Guarda come si fa? fare grattugiare, molto carino fare grattugiare, questo prendo un altro nome, perché se non io tutti i giorni qua lavoro, questa roba è tutta buona, vado al numero uno, ecco qui il numero due, il manico perro metti qua, prendi una bella, come si chiama questa? Patata, quando metti dentro, spingi tirando, 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 quando esce alto sale, fermo, leva questo, leva questo, dimmi abracadabra, tirando patata, no uno, queste due, è papa fritto, forno, tu anche piaci i bichini, tu anche fare pollo, questo pollo è patata e pollo, pollo africano nero, pollo spagnolo, eccolo qua, è bianco, il resto papa, mira qui, metti qui, miscina tua carne, formaggio al forno, non carne, prendi una piccina, come tu, una piccina sanauria, metti dentro, guarda che fa, poco corta, guarda che carino, molto bello, guarda, tu fai forno, tu fai padella, guarda, prendi che c'hai, una sanauria, una papa insieme, molto carino, questo numero due, eccolo qua, numero tre, guarda, scusa, 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 quello metti dentro, dopo sfingi il tirano, chiudi bene, chiudi bene, alza il tavolo, guarda, da qua aperto, spremi, è sumo, tu puoi anche fare pesce, e quello qua, limone per pesce, tu ce l'hai il perro, e se questa è perro, il limone perro, molto buono, e chiudo, lasciano il frigo, dopo tre, quattro anni, non c'è problema, ancora la parola.